Volevano togliere la lupa e se di guerre, non so se vede, vogliono mettere il rom e il diritto, ma è vero, non è il friend. No, no, non è la lupa, l'animale che rappresenta più o meglio la città, per noi altri di mafia capitale, non è più quello, per dire la verità, fin dagli tempi del fico luminale lei non ha fatto altro che all'attata e ce l'hanno ridotta proprio male di due gemelli a forza di succhiare, per noi non c'è rimasto quasi un cazzo, più tempo passa e più questa si asciuga e avevo tanta fame qui al palazzo, per cui per starva tutta la baracca la proposta e decancellare la lupa e desostituirlo in una buon caratteristica, questa è una sacra domanda, ma non è necessario...